allora come si fa qua così eccoci tac e anche su instagram e devo solo recuperare dell'acqua buonasera ciao emi cena top cioè spaziale veramente cena incredibile bisogna fare un hit atomico ma veramente cena spaziale 10 elode facciamole spesso tanta roba alex allora aspetta che devo recuperare anche dell'acqua per i momenti che saranno no c'è quella lì diciamo quella questa fresca ovviamente ora con questo gesto avete tutti capito che lì c'è il frigo quindi ora sapete anche dov'è il mio frigo perfetto buonasera ragazzi ciao 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 tutto bene buon lunedì a tutti ci siamo ci siamo in parecchi sì ci siamo ci siamo dai pian pianino ci stiamo collegando e prendiamo posizione per la nostra super combo stasera hit più ftt che sarebbe functional ton training ok quindi stasera una super combo bella bella atomica ok che ore sono 18 56 è presto è presto è presto anche la giulia ciao ciao paola paola poi ti devo scrivere per quella cosa lì ok quindi poi non ti preoccupare che avrai le mie notizie allora ragazzi bene comunicazione veloce da un punto di vista tecnico allora comincia ufficialmente la settimana nonché il mese delle combo quindi delle lezioni combinate come avete visto abbiamo fatto una valutazione che è stata quella di lasciare momentaneamente il flow strutturato a parte quindi abbiamo creato praticamente anziché una lezione due lezioni per cui ci sarà mercoledì alle 13.30 la lezione di gag e alle 19.15 il flow ok se volete le potete fare tutte e due altrimenti scegliete la lezione che più vi piace e siete stra presenti per ora lo vogliamo mantenere a parte per motivi proprio prettamente tecnici abbiamo provato a fare più prove ma diventa difficile proprio combinarlo insieme per adesso e poi vogliamo sempre dargli importanza invece le altre torna molto più facile cosa succede stasera allora stasera abbiamo fatto la cosa migliore che si poteva fare ovvero abbiamo messo insieme in due grandi circuiti quindi circuito 1 e circuito 2 ft t e it ok semplicemente strutturati insieme quindi cosa succederà succederà che ci sarà una parte all'interno del circuito una parte di ft t una parte di functional quindi di lavoro prettamente functional una parte di lavoro di tonificazione quindi lavoro settoriale e una parte di lavoro ag intensity ok in un unico grande circuito una roba veramente di quelle massacrante ok però stimolante ci piacerà voi fidatevi di me vedrete che sarà una una bellissima lezione importante invece perché tanti avete mandato mail avete scritto avete risposto al sondaggio per tutto quello che è e sarà la videoconferenza di mercoledì sera alle 21 allora due piccole precisazioni allora la videoconferenza di mercoledì sera alle 21 ha soltanto uno scopo che è quello di informarvi sui nostri progetti per settembre punto ok nient'altro non vi chiederemo di scrivervi non vi chiederemo anche perché non non dovevo dirlo non vi chiederemo comunque di sposare niente in quel momento di firmare nulla assolutamente vi chiederemo soltanto vi racconteremo soltanto quelle che sono le nostre idee ok quindi quelli che sono i nostri i nostri progetti futuri per settembre ovviamente da un punto di vista lavorativo e che riguardano quello che abbiamo creato online ok quindi non è obbligatorio assolutamente nulla voi potete tranquillamente con le scaricarvi zoom come prima cosa vi daremo a tutte le persone che hanno o risposto ai sondaggi su instagram o ci hanno contattato privatamente su facebook o su instagram forniremo il codice d'accesso e la password per entrare alla videoconferenza dopodiché voi potete tranquillamente silenziare il micro staccare il microfono sentire me e ilaria che vi raccontiamo che cosa vogliamo fare e fare nel frattempo le faccende di casa lavare i piatti quello che insomma fate abitualmente alle 9 di sera lo sappiamo che non è un grande orario però era l'unico momento dove effettivamente avevamo la certezza comunque che potevate essere più persone possibili perché normalmente si presume che la gente alle 9 di sera sia presente a casa ok anche se ovviamente c'è e grazie al cielo chi lavora anche ovviamente la sera alle 21 quindi ci sarà questa cosa non è obbligatorio partecipare è carino partecipare solo se volete avere appunto informazioni dopodiché terminata la nostra spiegazione voi potrete fare domande su tutti quelli che sono i vostri dubbi le vostre perplessità ripeto si parlerà solo ed esclusivamente di quello che abbiamo pensato per a partire da settembre ok giustamente è un po' presto perché mancano comunque due mesi quindi c'è ancora un'estate che deve passare dobbiamo fare tutte le ferie se le faremo speriamo però qualcuno comunque magari ha dei vincoli con delle strutture magari vuole sapere come comportarsi eccetera eccetera quindi noi in anticipo vi diciamo che cosa faremo ok e questo è quanto per avere accesso dovete contattarci privatamente ok o eventualmente rispondere al sondaggio che abbiamo fatto oggi su instagram ok se vediamo risposta sì noi vi mandiamo il link e la password di accesso alla zoomata di mercoledì sera ore 21 mi raccomando puntuali ok perché comunque ci sarà da dire e perché comunque avremo 40 minuti per poterlo fare perché poi di più non non si ha il tempo di poterlo fare ok ripeto ribadisco scrivete privatamente contattateci e noi vi mandiamo tutto va bene se per ca ovviamente ve lo manderemo insomma prima di mercoledì ecco non sappiamo ancora quando ma prima di mercoledì ve lo manderemo va bene però voi sappiate che c'è questo appuntamento ok sono stato abbastanza chiaro ho parlato bene direi sì ore 19 si può partire ragazzi buona lezione dagli è tutta e divertiamoci con questo hit più ft t alla grande vediamo se ci sono dei problemi sì 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 ma poi vi mandiamo informazioni in privato ecco importante non ho detto questo chi non riuscirà a essere alla zoomata noi non mettiamo il codice d'accesso pubblico ne daremo informazioni pubbliche perché purtroppo ragazzi al di là di tutto stiamo continuando a ricevere un pochettino di segnalazioni sui video blocchi cose abbastanza spiacevoli ecco quindi non metteremo una cosa pubblica ok se volete avere informazioni ci contattate privatamente e noi ve lo diremo sappiate che ci sarà questa cosa se eventualmente come normale non potete partecipare comunque ci potete scrivere in privato e vi diciamo che cosa si fa ok buona lezione ragazzi partiamo che a tardi hit e ft t dagli tutta wow cominciamo subito a partire con il nostro step touch leggero giusto il tempo di farmi sistemare il volar per l'allenamento teniamo bene il nostro step touch facciamo partire il cardio e vai ci arriviamo eccolo buono tac parte e perfetto ci siamo partiamo col ritmo 8 7 6 5 4 3 leccarla andiamo dietro con me e bam 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 leggero a mobilizzare bene dietro ok 8 7 6 5 4 3 2 molto bene stretcia la coscia destra allunga il quadricipite facciamo un attimino di allungamento che ci servirà molto a avere il muscolo mobile cambia vai caricati bene dai che ci siamo 4 3 2 saltello e ritmo vai alternato buono molto bene attiviamo bene la parte cardio con dei saltelli leggeri poi così 8 7 6 5 4 3 buono si corre dietro leggero vai leggero fatti tranquillo zombie leggero leggero 8 7 6 5 4 3 spostamento leggero prima destra poi sinistra vai buono leggero a destra buono sinistra ancora leggero a destra buono sinistra ancora sul posto aumenta l'intensità vai veloce spingi 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 vai svelto 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 buono ancora per 8 7 6 5 4 3 buono saltello ancora spingi bene su piedi vai mettici le braccia circonduzione le braccia avanti vai buono mettiamolo vai 8 7 6 5 4 3 si parte jumping jack let's go buono ragazzi si parte cazzutti vediamo se anche stasera evaporiamo vai buono 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 ritmo e via che va bene 8 7 6 5 4 3 2 buono step touch piaccia respira un attimo iniziamo a farlo diventare un po' più alto questo cardio ok lavoriamo sullo step touch respiriamo bene che va bene per 8 7 6 5 4 3 buono ragazzi corsettina avanti e torno in poco spazio ricordati che ti serve veramente poco spazio non hai bisogno di una cosa importante ok puoi andare tranquillo dai vai che sono con voi vai 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 sul posto jumping jack vai buono ragazzi come sta andando sta salendo il cardio vai 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 che stasera ci divertiamo buono 8 7 6 5 4 3 buono ti attivi leggero sul calciato sul calciato vai iniziamo a spostarci in avanti col calciato e torniamo indietro buono 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 dai 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 avanti e non mollare sempre bene leggero vai 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 buono 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 rimani sul posto e accelera go vai dai 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 mettici il ritmo vai così vai così non mollare che va bene buono 8 7 6 5 4 3 2 e step up buono cominciamo ad attivarci sulla parte functional perché se non hai dentro la candina oggi è il più functional pronti? squat mani a terra cammina avanti tieni il plank 8 7 6 5 4 3 2 torna a casa lentamente sali scrolla scendi cammina ancora avanti tieni il plank e stai lì 8 7 6 5 4 3 2 a casa lento buono sali l'ultimo scendo cammino tengo il plank e non mollo niente 8 7 6 5 4 3 2 torno a casa wow salvo mani sulle anche a fondo controllato non esagerare con la velocità ovviamente avete i pesetti e le bottigliette vicino vero? raccomando eh e anche un tappettino se lo avete scendi e spingi e non mollare yes vai lungo e spingi tieni sempre l'intensità non mollare vai buono 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 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 buono step touch yes come sta andando solo riscaldamento ok adesso mettiamo tutto insieme diamo una volta importante al cardio e si parte col circuito prendi il ritmo e vai volo vai yes vai 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 ancora 8 7 6 5 si parte ragazzi sul posto calciate dietro e via leggera spostati a destra e a sinistra leggera 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 devi essere leggero con una piuma non devi aumentare la velocità buono spostati avanti torna dietro stai sul posto aumenta leggermente il ritmo leggermente pronti 4 3 2 si va fuoco per gare go spingo vai 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 andiamo andiamo veloce 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 non mollare non mollare 8 7 6 5 4 3 2 e saltella buono spingi yes ritmo sui piedi vai così pronti attenzione si fa con il jumping jack ci sei prima step touch respira caldino dai che ci siamo dai che ci siamo prendi il ritmo non mollare 8 7 6 5 4 3 2 let's go jump vai con il jumping jack andiamo c'è da smaltire il weak hand vai 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 buono buono vai 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 8 7 6 5 ragazzi altro round di calciata veloce pronti vai let's go spingo dai 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 ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 buono affondo avanti go dai ci siamo 7 vai lungo e spingo go vai 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 spingi sempre in alto quando dai su non mollare vai primo weekend di mare è fatto ragazzi ho fatto un figurone in spiaggia sia io che la Ila grandi fisici dovuti appunto a questo format vai ancora qualcuno vai spingi non mollare 8 7 6 5 4 3 2 step touch buono respira ragazzi si costruisce walking plank poi c'è il recupero ok e poi cominciando il circuito allarga le gambe scendi giù cammina avanti tieni il plank stai lì e non mollare tieni tutto wow puoi muovere la testa per darti la carica scherzo tieni 8 7 6 5 5 4 3 2 torna a casa lento sali scrolla scendi giù andiamo avanti tieni stringi e non mollare tienilo più che puoi resisti 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 8 7 6 5 4 3 2 torna a casa sali scrolla ultimissimo scendi taccia terra cammina avanti tieni questo plank e non mollare 8 7 6 5 4 3 2 torna a casa lento sali wow riscaldamento fatto un gozzo d'acqua si parte 10 minuti per il cubo sono stato ottimamente nei tempi ok guarda cosa ti serve mettile vicino a te pronte ad usarlo ok mi raccomando ragazzi belli carichi buono prendi il ritmo con la start touch ok parte il primo circuito primo blocco è parte functional ok quindi si parte con un esercizio che abbiamo visto insieme molte volte andiamo a prendere i pesi pronti porta su press go vai 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 primo esercizio facile spalle e via arriviamo alla costruzione del movimento yes vai buono 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 spingile vai infinito questo press vai 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 così non mollare svuota sempre bene aria tieni la spinta verticale e continuo a lavorare 8 7 6 5 4 3 2 buono prendi lo start touch sciogli un momento le braccia andiamo a fare go and squat ok quindi i pesi rimangono alle spalle e cominciamo a scaldarsi le gambe ci sei let's go giù wow bam vai 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 che non è così caldo si può sopportare benissimo vai si può sopportare alla grande forza 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 vai 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 non mollare insisti boss vai così stringi il gluteo e non mollare stringilo più che puoi dai 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 buono e step touch uuuh due esercizi andati ovviamente sapete benissimo che si chiude con il thruster ok pesi alle spalle scendi in mezzo squat stringo su forte e vado in distensione pronti let's go uuuh vai così vai ancora 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 non molliamo e teniamolo che va bene buono wow tienilo tienilo a non mollare tienilo a non mollare ancora ancora pochi secondi e stop buono pesi a terra uuuh ragazzi blocco ton andiamo in quadro andiamo in quadrupedia e ci sono loro i nostri grandi amici glutei si parte ok piede in flex e su belleanti decisi pronti let's go destra aspetta buono e let's go pronti su uuuh tieni altezza e vai 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 spingere a non mollare buono questi sono i momenti che contano tieni altezza e vai inchioda il piede in alto strano fare glutei di lunedì ma è la parte ton dell'FTT buono vai così spingere a non mollare vai 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 così 8 7 6 5 4 3 2 mantieni piccoli vai con i piccoli vai con i piccoli tieni altezza e non mollare spacchiamo gli sti glutei carichi a manetta vai 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 tieni altezza e non mollare buono 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 che caldo vai 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 8 7 6 5 4 3 2 ok wow ora se riesci un esercizio molto tecnico se non riesci riprendi il primo esercizio gluteo ampio ti metti sulla braccia piedi sinistro appoggiato a terra e sollevato ok la gamba destra va su alta così vai così e stop e stop buono ragazzi bisogna fare tutto questo a sinistra ok quindi gomiti a terra piedi a martello slancio ampio lavoro sulla sinistra pronti? 4 3 2 si va let's go solo le vai a manetta vai a manetta inchiodiamo in alto vai così buono 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 tieni altezza tieni altezza non mollare ancora per 8 7 6 5 4 3 2 wow rimaniamo su e li facciamo piccoli piccoli pronti ragazzi ginocchio sempre a terra e vai così su forza 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 angolare 8 7 6 5 4 3 2 buono ragazzi mani a terra piede destro appoggiato a terra ginocchio destro sollevato si lavora a sinistra go e qua serve lavorare lentamente e con tanto controllo sull'alto inferiore entrambi e sulle spalle non mollarle vai 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 ancora pochi non mollare 8 7 6 5 4 3 2 e ok un'asciugata veloce ok ragazzi si rimane a terra push up ok appoggiamo le ginocchia una presa bella larga posizione delle mani in tempo bella larga e si va push up pronti questa è la parte 8 let's go wow bene a terra spinge non mollare così dai 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 e ok buono in piedi attenzione ragazzi parte finale ultimo esercizio del primo circuito ok non asciugate i piedi per evitare di scivolare skip ginocchia alte con spostamento laterale l'ultima stazione e poi vediamo un goccio d'acqua pronti? let's go lavora sullo spostamento laterale dinamico e vai spingi non mollare vai così non mollare non mollare tieni questa intensità difficile parlare metteremo tutti insieme dai 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 non mollare non mollare vai 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 8 7 6 5 4 3 2 e ok un goccio d'acqua velocissimo ragazzi mamma mia mamma mia raga c'è un altro giro più corto ma c'è un altro giro tutto bene? tutto bene sì non vedo like però immagino che vada tutto bene spero perlomeno prendi pesi vicino a te prendi lo step touch inizia a introdurre il cardio leggero con lo step touch vai buono mi date un cento di vita? ve lo date sì vero che ci siete vedo i like perfetto ragazzi si riparte ok? si riparte secondo giro è più corto prendi pesi portali su pronti presto vai 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 non mollare vai che lo stiamo portando a casa vai che lo stiamo portando a casa 8 7 6 5 4 3 2 spetta suono tieni pesi in mano andiamo a lavorare sul goblet ok? bene pesi le spalle e scendiamo sui decisi ok? mi raccomando e 4 3 2 let's go go goblet via avanti 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 stop step touch buono ragazzi thruster o squat thruster mi raccomando bello deciso porta scendi e spinta su let's go vai 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 non mollare non mollare niente non mollare niente tieni l'intensità che va bene buono 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 vai ancora ottimo e stop buono scarica asciuga mano tappetino a terra si va ci siamo si ci siamo state scrivendo che ci siamo vale anche oggi io evaporo con Luca Mastro pronti ragazzi si va arto destro in flex ampio via su tieni altezza e non mollare vai così vai così questi li facciamo lunghi lo stesso dai che il gluteo ci piace vai 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 spingi e tieni altezza ancora ancora per 4 3 2 1 wow e ci sono anche mercoledì ragazzi piccolini piccolini ok pronti 4 3 2 let's go vai su vai 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 brucia tutto non mollare ancora ancora 8 7 6 5 4 3 2 ok andiamo sulle braccia andiamo a tenere la posizione di mezzo plank e la gamba destra vola verso il cielo pronti tenere wow e let's go su anche questi sono pochi e stop buono cambia subito lato tu rimani lì mi giro solo io andiamo a sinistra ok si parte ampio giù sui gomiti pronti let's go spingere tieni altezza non mollare scatena sto gluteo deve essere infernale non morire dai 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 anche se a luglio fa caldo spingere che tra poco c'è il male per tutti noi vai forza 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 sei bene buono buono rimani su piccoli go chiunque dai 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 tieni altezza e non mollare spingi 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 4, 3, 2 e stop giù le mani a terra mezzo plank e vola la sinistra pronti? che fuoco vai, let's go, su lento e controllato metti attenzione sulle spalle buono e stop grandi, ragazzi siamo già lì coca il face pronti a partire con il push up grande playlist del periodo del lockdown pronti? 4, 3 se vuoi usare stendi le gambe let's go tocca col pet a terra e non mollare e stop buono, in piedi questo era già il blocco hit ultimo esercizio e c'è la pausa lunga sei pronto? io no skip laterale spostati laterale vai vai, 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 vai agile sulle gambe spinge e non mollare dai, 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 dai mettici l'intensità e non mollare dai, 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 dai e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop grandi ragazzi pausa lunga un goccio d'acqua recuperiamo due minuti bravi ok pausa lunga un attimo stavo per fare un grande errore stavo per bere l'acqua delle mie bottiglie d'acqua che uso come pesi che tra l'altro non so da quanto tempo ci sia l'acqua lì dentro stavo per fare un grande errore com'è ragazzi? ci siamo? datemi un segno di vita wow datemi un segno di life a sign of life uh ci siamo? recuperate due minuti di pausa era un po' che non vi concedevo la pausa lunga, vero? e adesso abbiamo il secondo circuito ok? stiamo già sudando parecchio è anche il caldo che lo fa però anche il polar dice che stiamo spingendo ragazzi mentre recuperate vi ricordo se qualcuno si fosse collegato dopo la videoconferenza mercoledì sera alle 21 su zoom se vi interessa contattateci in privato rispondete al soldaggio su instagram mettendo sì ovviamente perché no se no non vale e vi manderemo quello che è il link con la password per accesso alla videoconferenza che faremo su zoom alle 21 dovete scaricarvi ovviamente zoom per raccontarvi sostanzialmente che cosa vogliamo fare a settembre ok? ce l'avete chiesto in tanti quindi anche se è molto presto noi cominciamo già a dirvelo ok? così già lo sapete vi potete studiare la questione ok? quindi mi raccomando se rispondete al soldaggio sì noi lo vediamo vi manderemo il link da password appena lo avremo generato o eventualmente ci scrivete un messaggio privato e o su instagram e o su facebook perfetto ragazzi si parte circuito numero 2 come funziona adesso? adesso abbiamo prima la parte settoriale a terra quindi la parte ton di lavoro sul core sugli addominali dopodiché abbiamo il lavoro di functional in piedi e lavoreremo sull'affondone ok? e poi abbiamo la parte finale di it a bestia ok? ragazzi bisogna andare a fuoco anche perché sarà un giro soltanto ma sarà lunghissimo ok? ogni stazione sarà veramente veramente molto lunga quindi un bel respiro un goccio d'acqua carichi a bestia e forza che ce la facciamo sono con voi dai che lo portiamo a casa wow Joe top secret perché qua a Spezia mi rubano le idee perché non hanno molta fantasia allora guardano cosa fanno io e cosa faccio io e poi lo ripropongono come dire ah l'abbiamo fatto noi hai capito? quindi il top secret è solo per quello vai ciao Joe raga Joe quando mi rastezza fatti sentire si chiama si parte ragazzi sit up one leg si sale e mentre si sale con busto si flette prima la gamba destra e poi la sinistra come ci piace questo si parte siete pronti? 4 3 2 1 let's go è eterno è eterno questa è la parte che allena mi raccomando ognuno ha il suo ritmo ok? non forzatelo anche perché questa è la parte più lunga un giro solo ma sarà eterno 2 i got feeling che penso dai così è quasi una challenge non mollare e stop respira questo esercizio lo ripetiamo partiamo da sinistra questa volta ok? pronti con me? andiamo a terra vai! ci fanno giusto un po' gli addominali dai ragazzi non molliamo ce la possiamo fare e 4 3, next time let's go uuuh uuh 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 uuuh uuh uuh tenso un choret uuh Non muoviamo niente Teniamolo, teniamolo, teniamolo Buono Gli ultimi Gli ultimi E stop, buono Ragazzi, si va col crunch Ok, da lì mi metto di profilo Così lo vedi Vedi gli addominali Pronto? Raccogli le gambe Crunch Figgiare, figgiare Figgiare il culo ragazzi Non mollate Continuate Se avete bisogno Appoggiate i piedi a terra Se riuscite andate avanti Buono Avanti ancora Vai così Non mollare 4, 3, 2, stop Ragazzi, si rifà questo esercizio Stessa cosa Gambe su, sollevate E pigiare sugli addominali Non molliamo Che lo stiamo portando a casa Questo HIIT più FTT Pronti? Vai di nuovo Let's go Crunch 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 Un grande termine Non mollare Non mollare Non mollare 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ok Wow Sui piedi E ci siamo ragazzi Prendi i nostri attacchi Ok Respira le punta su un po' il cardio Ok Perché siamo stati a terra Abbiamo bisogno di farlo risalire Ok Parte da parte Function Siccome tu c'è un lavoro Di luce laterale Molto simile al format Che facciamo nel gag Apri E da lì Braccia avanti Affondi E torni Affondi E torni Con controllo Cerca di lavorare Tenendo entrambi i piedi Ben a terra Ok Non lavorare Sull'inclinazione Del busto in avanti Mantieni il busto dritto E lavora con controllo Vai così Così Vieni il controllo E voglio mollare Questo lunge Buono Ottimo Ottimo Tieni sempre il controllo Lavora sulla nobilità Esalta molto questa nobilità Vai Ancora per Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Buono Prendi i pesi Porta le spalle Front lunge Avanti Go Blocca le spalle Vai Spinge Non mollare Vai così Vai così Non mollare Non mollare Non mollare Vai 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 Ancora 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 Piega e non mollare Te l'ho detto che è un giro solo Ma è finito Mai finito Vai così Vai così Buono Da quella posizione Su le braccia e continua Attiva maggiormente la muscolatura delle spalle Lavora meglio su questo lunge Non mollare Non mollare Dai ancora Dai ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Buono Stop Giù in pesi Ragazzi Comincia lo show Parte la parte hit Si parte con lo shuffle Bello alternato Pronti? Vai let's go Spingo Vai 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 Fai lavorare queste gambe Non mollare Spingi Tienelo bene a questo shuffle Vai Non andare a fuoco Perché è lungo È lunghissimo Vai 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 Buono Avanti ancora Avanti ancora Non mollare Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Tre Due E ok Step touch Ragazzi Sempre hit Usciamo stretti Ovviamente in ginocchio Ok? Andiamo giù Pronti Pronti? Ginochi a terra Braccia strette A sollecitare maggiormente la muscolatura del precipite Pronti? Oh Let's go Vai che lo portiamo a casa Non mollare Non mollare niente PJ non mollare Ragazzi ancora Scendiamo giù fino in fondo Valorizziamo bene questo push Urlate se avete bisogno Vai così Dai E stop Wow In piedi Mamma mia Step touch Non molliamo però Ragazzi Il blocco finale Guarda come è calato lo step touch Riprendiamo dai Forza Ok ragazzi Adesso Jumping jack Push up Skip basso E skip alto E è fatta ok? Il jumping jack è lungo Ve lo dico Quattro Tre Due Let's go Via Vai ora Vai ora Vai così Vai così Vai così Vai così Vai 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 Ritmo e via Buono 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 Alla Brenty Cooper Un American Sniper Salutiamo Brenty Ciao Brent Vai così Non molliamo Vai 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 Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Setta Ragazzi Com'è? Di nuovo push Per dinarmi Ok? Aggressivi Lo stiamo portando a casa Andiamo giù È un massacro Che idea Deve lì Pronti Vai Pusci la ingheria Spinge Vai così Vai così Vai così Non mollare E stop Buono ragazzi In piedi Due skip È fatta Ragazzi Si parte Basso Via Dai 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 È fatta È fatta È fatta Anche questo Cambio Tutto In lo spettacolo Ragazzi Alto Quattro Tre Due Basso E svelto Dai 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 Vuttano su Vuttano su Vuttano su Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Alto Ragazzi C'è solo un cambio Che sarà solo basso Ok E poi è fatta Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Veloce Dai 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 Spingilo 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 Buttano su Buttano su Dai 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 Quattro Tre Due Ancora Quattro Tre Due Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Stop Grandi ragazzi Tanta roba Portato a casa Grandissimi Stretching Fantastico Portato a Tom Portato a Tom L'obiettivo era proprio quello Che ce l'abbiamo fatta Wow Che bello Eccoci qua Anche io Mauro Non ti preoccupare Wow Grandi ragazzi Vi è piaciuto Questa combo Wow Stira Che combo Tanta roba Ok Allora di nuovo Per chi si fosse collegato Soltanto adesso Mercoledì sera A ore 21 Facciamo una videoconferenza Zoom Dove vi raccontiamo I nostri piani A partire Dal mese di settembre Ok Se vi interessa Contattateci in privato E vi manderemo il link Per accedere Appena ovviamente Lo avremo generato E E eventualmente Rispondete al sondaggio Su Instagram Dove appunto vi viene chiesto Se partecipate Sì o no E noi ve lo manderemo Ok Se poi non ci siete uguali Vi contatteremo poi privatamente O ci contatterete privatamente Per sapere Le nostre intenzioni Ok Buono Allunga gli aduttori Speriamo di non dimenticarci nessuno Comunque rifaremo un post A riguardo Anche domani sera Ok Quindi domani sera Rifaremo un post Per chiedervi Se Partecipate Allunghiamo bene gli aduttori Wow Buono Non è un dibattito Parlo io Poi voi potete fare delle domande Dopo Si può anche trasformare in dibattito Non vi preoccupate Ne è un'interrogazione Buono Allunga le gambe avanti Pedi uniti a stretch Stira Wow Allunga bene Wow Abbiamo buttato fuori un po' di sudore anche oggi E portato a casa Il nostro lavoro post weekend Stira il quadricipite Portala dietro E allungala bene Manda bene in stretching La muscolatura del quadricipite Tiriamo bene appunto Cerchiamo di allungarci bene L'abbiamo usato parecchio Buono Cambia E vai Stira bene la coscia Ottimo Buono E ok Si va in piedi ragazzi Toghiamo le gambe Mano sinistra sul piede destro E stretch Come nel tuo Allungati bene Quando sali Vai di là Ruota Giù E touch Ottimo Sali su Vai sul grande sale Allungati lateralmente Stira e stretch Cambia Vai di là Vai di là Allunga bene il grande sale Gli addominali obiqui Stira più che puoi Ritorna Da quella posizione Gambe larghezza del bacino Inspiriamo E torno Ancora Inspiro Prendo bene l'aria Salgo sulle punte dei piedi Ritorno Mi rilasso bene le spalle L'ultima volta Inspiro Scendo giù Le mie mani vanno a terra Touch della mano a terra E sto lì Mantengo Tengo pochi secondi 5 4 3 2 1 E salgo Scrodo le spalle Stop Andate ragazzi Wow Grande performance Tanta roba Tanta tanta roba ragazzi Grazie Marco Grazie mille Wow E abbiamo portato a casa La prima combo La prima hit Più FTT Della stagione Schiva Tanta roba Perché adesso Stagione estiva È combo Ok Allora ragazzi Cosa dirvi Non vi ripeto più Della questione Della videoconferenza Zoom Ci scrivete voi Ok Tanto poi Li faremo un post Anche domani sera Appena abbiamo Tutti quelli Che ci hanno contattato Sappiano che sono già Nella mail list Ok Quindi di fatto Vi manderemo poi Via messaggio Il codice Per entrare Era una cosa Che mi è uscita così Il codice Per entrare Appunto All'interno Di Zoom Per poter assistere Alla conferenza Ok Eventualmente Se non vi arrivasse E ci avete contattato Fateci un rinforzino Anche pochi minuti prima Tanto noi saremo davanti al pc E ci mettiamo un attimo Ad aggiungervi Ok Lo stiamo facendo privatamente Ragazzi Perché come vi ho già detto Non lo condividiamo Pubblicamente Sulle nostre pagine Per il semplice motivo Che siamo un po' Vittima di Sgarbi Ultimamente Ok Non di Vittorio Sgarbi Ma di Sgarbi Lì sarebbe uno show Spettacolare Tra l'altro Ma è proprio Di Diciamo Insomma Gente un po' così Un po' particolare Ok Quindi Lo mandiamo privatamente Va bene E preferiamo fare così Per una tutela Ci perdiamo un po' in pubblicità Ma preferiamo comunque Farlo per tutela nostra Va bene ragazzi Fantastic Vale Come sempre E ciao Brad Perfetto Ragazzi Vi ho detto tutto Quello che vi dovevo dire Mandateci le storie Mettete like Pagina Facebook Instagram Iscrivetevi al canale YouTube Ormai lo vedete tutto E sono ripetitivo Buona serata ragazzi Domani Cos'è che c'è Video tutorial challenge E stretch and tone 18.30 In diretta Con la Ila Ok Quindi mi raccomando Non ci deludete Buona serata ragazzi Fatevi sentire Ciao Ciao